Una ricerca su come l'informazione e i social media raccontano l'immigrazione. La commissionata e il consigliere regionale Giannino Romaniello ha un gruppo di esperti. Questa ricerca presentata come gruppo misto, ma una ricerca fatta da dei ragazzi giovani che stanno operando in questo settore, è la prima di una serie di ricerche che io intendo fare per cercare di, come diciamo nello studio, di restituire la verità sostanziale dei fatti rispetto alla vicenda degli immigrati. Perché il modo con cui viene affrontata questa questione è troppo spesso superficiale e per alcuni versi disinformativo. Questa prima ricerca parla proprio del rapporto fra informazione e verità dei fatti sull'immigrazione. e leggendo il rapporto si potrà verificare che l'uso dei termini, il modo con cui la stamba rappresenta la vicenda dei rifugiati, degli immigrati, coloro i quali arrivano sulle nostre coste, troppo spesso non è legata a una rappresentazione vera del dramma che vivono queste persone, ma è legata a eventi sensazionali e quant'altro. La vicenda del bambino morto sulla spiaggia con le scarpette e la maglietta è stata, diciamo così, quello che ha fatto cambiare anche l'approccio da parte della informazione. E io dico, ma abbiamo bisogno di vedere quelle foto per capire qual è il dramma che vivono le popolazioni di questi paesi che fuggono dalla guerra e fuggono da una condizione di grandissimo disagio.